Ciao a tutti, è stato fissato e programmato il secondo meeting di Scattelotrend, si terrà a Milano sabato 7 aprile. Per le info scrivete scattelmeeting.gmail.com, in tanti hanno già scritto, ancora qualche giorno riceveranno le prime informazioni. I relatori in questo caso non saremo più solamente in duo, sia il dottor Massimo Scalleio, abbiamo aggiunto la squadra Anna Resti-Bontroi e Lucia Anna Arsenio, ossia Lucia Finanza. Ognuno dei relatori fornirà uno strumento concreto in base all'argomento trattato e sicuramente offriremo un qualcosa di nuovo. Un qualcosa di nuovo perché? Perché spesso ai corsi si sente dire che devi tagliare le perdite, che devi lasciar correre i profitti, che questa candela significa così, per cui quando tu la ritrovi devi fare questa cosa, poi succede che quando si è dopo il corso e dopo che si è pagato tanto a casa da soli, si ha l'incertezza, magari quell'insegnamento in quel momento non funziona, si perde la fiducia, ti promettono un post-corso che consiste in un'email che ti arriva una volta a settimana, insomma poi il tutto finisce là. E così è normale che si sente di tanti neofiti o aspiranti trader che partecipano a 50 corsi. Ognuno di noi invece fornirà qualcosa di concreto. Cosa fornirò io? Chi è stato a Roma insieme a me ha visto che abbiamo creato un trading system tramite una piattaforma accessibile a tutti, un trading system che permette di lavorare insieme, ossia tutti i partecipanti sono stati inseriti in uno spazio virtuale e solo i partecipanti, quindi è una cosa esclusiva, e su questo spazio virtuale noi dal giorno dopo del meeting di Roma stiamo lavorando su questo trading system. Stessa cosa sarà fatta per chi parteciperà al meeting di sabato 7 aprile a Milano. Un trading system che ci permette di confrontarlo e di confrontarci su uno spazio virtuale significa giocare a carte scoperte, perché i risultati sono agli occhi di tutti noi che siamo in quello spazio virtuale. E quindi non permette solamente di dire fai così, perché in quel caso faremo così, perché insieme noi vedremo quello che il trading system ci offre come rendimento. Questo sicuramente è rischioso per chi fa il relatore e propone un trading system che significa lavorarlo insieme giorno per giorno, dal giorno dopo del meeting. Ma se si ha la coscienza di saper lavorare in una certa maniera, si può rischiare. Noi ci sentiamo di rischiare, quindi vi chiediamo di rischiare l'iscrizione, perché dopo lavoreremo insieme, non il giorno del meeting, ma sempre. Per cui vi aspettiamo, sabato 7 aprile, la mail è scattelmeeting.gmail.com. Un saluto dal dottor Massimo Schella, da Naresti Bontoi, da Luciana Asseni e da me. A presto!